Hai problemi di salute? Il luogo dove vivi potrebbe esserne la causa. Nella classifica stilata da Icair, un'azienda rinomata in tutto il mondo, che valuta la qualità dell'aria nelle diverse città del globo, alcuni giorni di febbraio, Milano è risultata la terza città con la peggior qualità dell'aria al mondo. In particolare, l'indice ACUI un giorno è arrivato a toccare l'impressionante cifra di 193, meglio solo di Dhaka in Bangladesh, e di Chengdu in Cina. In questo video, vediamo cosa questo significa per la tua salute e quella della tua famiglia. Faremo anche degli esempi per capire quali sono i livelli di qualità dell'aria in altre città. E rimani fino alla fine dove faremo l'elenco dettagliato dei problemi di salute legati alla qualità dell'aria. L'indice ACUI è una misura internazionale utilizzata per comunicare al pubblico quanto sia inquinata l'aria e quali effetti sulla salute vi potrebbero essere. Più alto è questo livello, più l'aria è insalubre e più aumentano i rischi per la salute. Un valore di 193 è considerevolmente alto, suggerendo che l'aria è classificata dai CAIR come insalubre. Questo livello di inquinamento può causare significativi problemi di salute ed ancor di più a bambini, anziani e persone con condizioni preesistenti quali asma o malattie cardiovascolari. Mentre Milano mostra numeri preoccupanti, è interessante notare che altre città, sia europee, ma anche asiatiche o sudamericane, e persino del Medio Oriente, spesso percepite come altamente inquinate, presentano valori ACUI estremamente più bassi, dimostrando che la gestione dell'inquinamento urbano e le politiche ambientali possono fare una grande differenza. Ad esempio, stando in Europa e in Svizzera, registriamo oggi un livello di 29. Andando verso il Medio Oriente, in Kuwait, registriamo un livello di 25. Muovendoci verso l'Asia, a Singapore registriamo un livello di 25. In Brasile troviamo un livello pari a 48. Tutti sotto il livello 50. Un livello sotto i 50 rappresenta il livello migliore di qualità dell'aria per tutelare la tua salute. Prima di vedere l'elenco completo dei problemi di salute legati alla qualità dell'aria, dopo di questo guarda il nostro video sui luoghi in cui le persone si stanno trasferendo quest'anno, che comparirà pochi secondi prima della fine di questo video. Ecco un elenco esatto di problemi di salute che sono direttamente legati alla qualità dell'aria. Malattie respiratorie croniche, come asma e bronchite cronica, possono aggravarsi a causa dell'esposizione prolungata a inquinanti come il particolato fine e l'ozono. Problemi cardiovascolari, tra cui infarti e ictus, sono spesso correlati all'esposizione a lungo termine a livelli elevati di inquinamento atmosferico. Infezioni delle vie respiratorie possono verificarsi più frequentemente in ambienti con aria inquinata, poiché polveri sottili e altri inquinanti possono trasportare agenti patogeni. Allergie e irritazioni sono comuni in aree con alta concentrazione di pollini e inquinanti chimici, che possono esacerbare i sintomi in individui sensibili. Impatto negativo sullo sviluppo dei polmoni nei bambini, con potenziali effetti a lungo termine sulla loro capacità respiratoria e sulla salute generale. Effetti carcinogeni sono possibili con l'esposizione a certi tipi di inquinanti atmosferici, che sono stati classificati come cancerogeni per l'uomo. Declino cognitivo e demenza possono essere accelerati dall'esposizione a inquinanti atmosferici, secondo recenti studi che collegano l'inquinamento dell'aria con l'alterazione delle funzioni cerebrali. Chiediamoci, va la pena oggi vivere a Milano e scontare l'altissimo costo della vita, la crescente criminalità e persino potenziali danni per la propria salute?